buonasera a tutti questa sera voglio fare questo video per due motivi molto semplici uno perché ho già pubblicato un video live per quanto riguarda questa bella chiesetta che state vedendo in foto però per chi l'ha già visto avrete capito insomma che a volte il vento e l'ho detto pure era molto forte quindi sovrastava un po la mia voce e a volte non non si capiva la qualche parola non si sentiva bene qualche parola più che altro quando leggevo il cartello che riguarda appunto la descrizione di questa chiesa lo vedremo più avanti e poi il secondo motivo è per parlare in maniera un po più ampia di questo progetto che è stato fatto in Piemonte è stato avviato in Piemonte è un progetto che è partito nel 2020 a cura di art mapping Piemonte artissima regione Piemonte compagnia di San Paolo e fondazione Torino Musei e per la realizzazione quindi l'installazione di alcune opere in Piemonte una la troviamo nel museo della sede di wine experience a Priocca siamo nel cuneese opera a cura di Roberto Coda Zabetta l'altra la troviamo si intitola Griglie d'oro e la troviamo a Novello e siamo nel cuneese opera a cura di Olivier Mosset scritto Moset ed è immersa tra le splendide vigne quindi vigneti riconosciuti dall'unesco patrimonio dell'umanità l'altra ancora la troviamo a Parodi Ligure siamo nell'Alessandrino è un'opera che è stata fatta nella chiesa di San Remigio una chiesa ormai sconsacrata nel 2000 l'opera è stata fatta nel 2019 è una abbazia in stile barocco è stata fatta in memoria di Mario Airo e si intitola The Elegy of Witness l'ultima quella che stiamo vedendo in foto è questa chiesetta campestre di San Rocco a Montabone in provincia di Asti è fatta opera no è fatta da dall'artista cinese Zhang Enli nel 2020 e si intitola A Careful Person quindi una persona allegra è una chiesetta del diciottesimo secolo è stata piccola particolarità questa chiesetta è stata edificata per chiedere la protezione contro la peste e simpaticamente viene chiamata la chiesetta che sorride infatti basta guardarla ed è così andiamo a vedere la prossima foto ecco questo come ho fatto come ho detto in nel video live io andavo da Acqui da Acquiterme verso Canelli e Montabone si trova a metà strada circa io ho quindi oltrepassato questo cartello qui circa 200 metri dopo sono salito a sinistra per circa altri due chilometri di curve e si arriva direttamente a questa bella chiesetta poi andiamo a vedere la prossima foto ecco questa è una veduta un po' più ampia della bellissima chiesetta di San Rocco vedete San Rocco 2021 è lì anche se è stata inaugurata nel maggio del 2020 poi andiamo a vedere vedete A Careful Person il titolo no di questa bella bellissima bellissima opera questo è il cartello ecco per leggerlo meglio qualora vi rispetto avreste perso qualche parola non si sentiva qualche parola nel live fate un scrishotto oppure fermate un attimo il video e ve la leggete io vi leggo velocemente qualche qualche passaggio così magari ci rinfreschiamo un attimo nella memoria la chiesa campestria di San Rocco immersa nelle vigne del brecchetto d'acqui piccola parentesi e il brecchetto d'acqui è il mio preferito è non voglio essere di parte però a me piace tantissimo come la malvasia non bevo vino ogni tanto quando mi capita un mezzo bicchiere per occasioni particolari perché altro capodanno allora si dice che si fa si eccede un attimino in questo caso il brecchetto d'acqui lo preferisco è buonissimo quindi se vi capita assaggiato è veramente molto buono e quindi è stata edificata nel diciottesimo secolo in stile barocco rustico e oggi si palesia come presenza delicata nel paesaggio con il suo piccolo rosone polilobato al centro della facciata il grande fascino di questo luogo il punto di vista di che arriva da lontano hanno portato l'artista cinese zang e li a dare una nuova vita alla cappella attraverso uno dei suoi lavori di pittura astratta gestuale riprendendo i colori della natura circostante zang e li ricrea una sorta di pareidolia trasformando la facciata della chiesa in un bordo sorridente confondendole delicatamente gli elementi architettonici della facciata con i suoi tratti veloci per farne una cosa sola il lavoro nato durante il lungo periodo del lockdown eccetera immagina l'architettura religiosa libera tra le vigne come un elemento felice capace di portare un sorriso a chi la incontra nata come omaggio e risposta all'intervento nel 1999 di solle eccetera eccetera nella cappella barolo a che il full person trasforma le geometriche campiture cromatiche in un'esplosione di tratti che omaggiano la tradizione la tradizione tutta italiana del tra parentesi scarabocchio di eccetera eccetera e la creatività dell'infanzia capace di trasformare la realtà con la forza dell'immaginazione l'intervento fa parte di art mapping come dicevo prima regione piemonte eccetera eccetera a cura di artissima questo voglio dirlo e della sua direttrice fino al 2021 Ilaria Bonacossa bravissima e complimenti per vista la realizzazione di tre installazioni come ho detto prima e così via quindi di questi progetti ce ne vorrebbero un po' di più però chissà c'è sempre tempo per poter cominciare no? ad espandere a macchia d'olio questo questo tipo di progetto bellissimo dare un po' di colore in più a quello che già la natura ci offre ecco questo vedete un'ampia veduta dei vigneti del breghetto d'acqui con quella bella chiesetta che sta in cima vedete che sorride qualcosa di stupendo come ultima foto vi voglio lasciare con i colori della natura quindi la vallata le colline e poi questo splendido cielo azzurro che si può osservare da dalla chiesetta di montabone per regalarci veramente delle emozioni molto intense e quelle che io mi auguro di farvi provare con i miei video quindi con quelle mie con le mie foto bene io come al solito vi saluto con un abbraccio affettoso ci vediamo al prossimo video ciao